La notizia dell'arresto Salvatore Mangione, pregiudicato di 25 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Vittoria. L'uomo latitante da tre anni è accusato di far parte di un'associazione a delinquere. Nei prossimi giorni una cinquantina di famiglie in provincia di Ragusa rischiano di perdere la casa. La denuncia è dei forconi che parlano di allarme, case a rischio. Domani è la giornata clou dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono di Vittoria, una ricorrenza che per i vittoriesi segna anche l'inizio della stagione estiva. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. La notizia per certi versi clamorosa degli arresti di un dirigente di banca di Vittoria e di un giovane imprenditore che sarebbero a pieno titolo coinvolti in un giro di usure e distorsioni ha svegliato oggi Vittoriesi tra incredulità e sconcerto. Sotto inchiesta un'organizzazione che aveva ramificazioni da Ragusa a Gela. Arresti domiciliari per un dirigente di banca dell'agenzia Unicredit di Santa Croce Camerina, Daniele Francioni, 55 anni, per un imprenditore di 27, Marco Falcone, entrambi incensurati, sono stati prelevati ieri da personale della Guardia di Finanza e condotti in caserma. Su di loro pende l'accusa gravissima di usura e distorsione per un giro di affari che si aggira intorno ai 200 mila euro. A questi due arresti va aggiunto anche quello di un mese fa nei confronti di Gianluca Guastella, 44 anni, sorpreso in flagranza, mentre riceveva una grossa somma da un commerciante di Santa Croce Camerina. Durante l'operazione le fiamme gialle hanno sequestrato anche 180 mila euro tra contanti assegni bancari, buona parte dei quali custoditi in casa del giovane imprenditore. Si tratta di somme che sarebbero state versate dalle persone taglieggiate a garanzi dei prestiti ottenuti. Se questa accusa verrà confermata, al terzetto verrebbe contestata anche l'arriato di riciclaggio di proventi illeciti, proveniente appunto da usura e distorsione. Sempre secondo le indagini, Falcone fungeva da intermediario tra le persone che versavano in difficoltà economiche e il direttore di banca. Alle vittime veniva quindi proposto un prestito fuori dai cosiddetti canoni di banca, con interessi che andavano sempre più ad aumentare. Le indagini proseguono serrate anche perché pare che l'organizzazione abbia ramificazioni anche fuori dai ristretti ambiti provinciali. Arrestati dalla Polizia di Stato due uomini, padre e figli, accusati di aver commesso una rapina in abitazione. A carico dei due, inoltre, anche l'accusa di aver realizzato una serie di rapine consumate in un breve periodo di tempo a Comiso, Modica e Scicli. La Polizia di Stato squadra mobile e commissariato di Comiso ha catturato Giovanni Florindi, vittoriese di 50 anni, pregiudicato ed il figlio Giuseppe è nato a Comiso 23 anni, entrambi residenti a Comiso. I due sono accusati di rapina aggravata in un'abitazione. L'indagine a cura del commissariato di Comiso e della squadra mobile di Ragusa è nata a seguito di una serie di rapine messe a segno in case di Comiso, Modica e Scicli. Gli investigatori hanno sentito le vittime, concentrandosi in particolare sulle fattezze fisiche degli autori e sull'inflessione dialettale. All'inizio sembravano non esserci elementi utili per individuare gli autori, ma con tenace e grande senso del dovere, la chiave di volta è stata trovata in un numero di targa notato dai poliziotti pochi giorni prima di una delle rapine consumate all'interno di un'abitazione. A confermare questo elemento anche un cittadino che aveva appuntato una parte della targa dello stesso veicolo. Il gruppo criminale, con molta probabilità, era sempre lo stesso. Dagli accertamenti sulla targa emergeva che l'auto fosse in uso alla famiglia Florindi, conosciuta alla polizia. La Procura della Repubblica ha quindi subito autorizzato il rilevamento della posizione GPS dell'auto, così padre e figlio erano costantemente monitorati. Sull'auto poi è anche un sistema di intercettazione che ha permesso di registrare le conversazioni durante le quali i due progettavano ed effettuavano sopralluoghi, commentando le difficoltà che avrebbero trovato al momento dell'ingresso in casa, il numero e il tipo di abitanti presenti nell'abitazione, i sistemi d'allarme, la presenza di cani e le vie di fuga. In un caso, il padre ha anche raccontato al figlio la rapina commessa la sera prima e le difficoltà incontrate, dovute anche alla presenza, poco distante, di uomini della polizia di Stato che erano sulle sue tracce. Raccolti tutti gli indizi, la Procura della Repubblica di Ragusa ha chiesto ed ottenuto subito l'applicazione della misura cautelare in carcere per i due congiunti, al fine di evitare il peggio. Salvatore Mangione, pregiudicato di 25 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Vittoria. L'uomo era latitante da tre anni ed è accusato di aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Arrestato in un blizzi dei carabinieri della Compagnia di Vittoria il pregiudicato Salvatore Mangione, latitante dal 2012, l'uomo era da qualche tempo monitorato dai militari che da diversi giorni lo avevano notato a girarsi per le vie del centro Ipparino, dalle quali mancava da diversi anni. Pregiudicato di 25 anni, nei confronti di Mangione pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere messo dal Tribunale di Catania. Il giovane, insieme ad altre 52 persone, è ritenuto facente parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla produzione e dal traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per lo più cocaina, asci, scextasi ed anfetamine, operante nella provincia di Agrigento ed in quelle limitrofe dal 2010 al 2012. Lo stesso si era reso irreperibile nel corso dell'operazione Carte false condotta dai carabinieri di Licata nel 2012. I militari del nucleo operativo radiomobile di Vittoria sono riusciti a circoscrivere l'aria e le persone che il latitante frequentava, fino a chiudere definitivamente il cerchio. Nel tardo pomeriggio di ieri è quindi scattato il blitz in via Garibaldi, dove il giovane è stato fermato a bordo della sua autovettura. Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato ristretto nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Francesco Puleio, per i provvedimenti di competenza. Al vaglio degli investigatori che stanno proseguendo gli accertamenti, ha anche la posizione delle altre persone che frequentavano il pregiudicato per accertare l'eventuale complicità nel favorire la sua latitanza. È stato fatto brillare ieri nelle campagne di Chiaramonte-Gulfi l'ordigno bellico rinvenuto lo scorso 17 giugno in un appezzamento agricolo all'opera, come sempre, gli artificieri del genio Guastatori di Palermo. Operazione brillamento a buon fine. Ieri infatti è stato fatto brillare l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale e rinvenuto lo scorso 17 giugno in un appezzamento agricolo incontrato a dichiaram Chiaramonte-Gulfi, l'ordigno bellico di fabbricazione tedesca, era stato trovato al proprietario del terreno durante alcuni lavori di sbancamento terra. L'uomo aveva immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri della locale stazione, i quali, giunti sul posto, hanno provveduto a circoscrivere l'area con l'apposito nastro segnaletico e a presidiarla fino alla mattinata, quando è intervenuto il personale del IV Regimento Genio Guastatori di Palermo, oltre all'unità della Croce Rossa italiana di Catania. L'attività del brillamento ha comportato lo spostamento all'ordigno in una cava di contrada coniglio e si è conclusa positivamente dopo circa un'ora. Nella notte intanto, sempre i carabinieri, ma in questo caso di Ragusa, sono intervenuti sulla scena di un tentato suicidio. Una ragazza diciottenne si era infatti lanciata dal balcone della propria abitazione. Fortunatamente le conseguenze non sono state fatali perché la distanza dal suolo era di appena due metri per la ragazza trasportata al pronto soccorso del civile diagnosticata la frattura del calcagno con prognosi di 30 giorni. Ancora cani e gatti avvelenati a Vittoria. A segnalarlo alcuni cittadini che lamentano come ieri due animali in particolare siano stati avvelenati all'interno del canile della signora Nicosia. Ad intervenire per gli accertamenti e gli interventi del caso, la Polizia Municipale di Vittoria e l'Asp. Strage di gatti randaggi invece nella zona dell'ospedale. Qui alcuni volontari curano una colonia felina, ma la presenza di numerosi bocconi avvelenati fra i cespugli ha decimato il numero dei gatti presenti. Gli amanti degli animali chiedono quindi all'amministrazione comunale, ai vigili urbani di intervenire per far sì che le leggi vengano rispettate. E si chiede poi che fine abbiano fatto le carcasse di animali morti che secondo la normativa possono essere raccolte solo dall'Asp. La vicenda delle aste giudiziarie è secondo il Movimento dei Forconi nei prossimi giorni una cinquantina di famiglie in provincia di Ragusa rischiano di perdere la casa. È urgente pertanto un incontro col Ministro della Giustizia. Ennesimo grido d'allarme del Movimento dei Forconi che puntano i riflettori su circa 50 famiglie della provincia eblea che rischiano di perdere la loro casa venduta all'asta e mentre il prossimo 8 luglio è previsto lo sfratto coatto per i coneggi Pacetto di Scigli, per i Forconi è quanto mai urgente necessario un incontro col Ministro di Grazia e Giustizia. Per il leader del Movimento, Mariano Ferro, il governo siciliano, allo Stato attuale, non ha alcuna capacità di esercitare pressione politica sul governo nazionale. È invece necessario che il Parlamento intervenga per difendere le decine di migliaia di famiglie che perdono o rischiano di perdere la propria casa. E per la guida riconosciuta dei Forconi viene ribadita quindi la necessità di un incontro urgente col Ministro Orlando e tra le richieste avanzate c'è l'istituzione di un ammuratore di 24 mesi con sospensione di tutte le aste giudiziarie con apposito decreto legge, la modifica della legge che regola la disciplina delle aste con la non pignorabilità della prima casa e degli immobili strumentali alle attività e ancora che venga posto un limite ai ribassi d'asta oltre all'obbligo per l'acquirente di possedere l'immobile per almeno 20 anni prima di poterlo rimettere in vendita. Per i Forconi in conclusione, le uniche affare sciacallaggio sono le banche e questo non ha senso, ecco perché la legge va cambiata. Saranno presto rimboschite le pendici di Monte Rosso Almo grazie allo sblocco del progetto di 668 mila euro della forestale con fondi ex Insicem. Lo afferma l'onorevole Arrazio Ragusa secondo cui è stato necessario appostare altri 100 mila euro in finanziaria per permettere l'esplendamento degli adempimenti propedeutici da parte dell'Agenzia delle Entrate. E questo perché, spiega Ragusa, le risorse economiche appostate grazie ai fondi ex Insicem erano risultate insufficienti. In pratica mancavano i soldi per il pagamento all'Agenzia delle Entrate. Adesso però dice, le risorse economiche sono finalmente a disposizione della forestale. Chiuderà nella seconda metà di luglio la discarica subcomprensoriale di Ragusa e non mancano le polemiche. Per il consigliere Elisa Marino si tratta di una situazione inaccettabile. Tra qualche giorno, e precisamente il 24 luglio, chiuderà la discarica subcomprensoriale di Ragusa e quest'evento gravissimo per la città rischia di passare sotto silenzio. Lo afferma il consigliere comunale indipendente Elisa Marino dopo aver raccolto l'allarme di 10 lavoratori della discarica che rischiano di rimanere senza lavoro. Eppure, rileva la Marino alla regione e afferma un progetto che consentirebbe di allungare la vita del sito in questione di almeno due anni. Nessuno però finora si è mosso ed ecco perché la questione va portata in consiglio comunale con urgenza affinché possa essere approvato un ordine del giorno da spedire a Palermo e quindi sollecitando l'approvazione del progetto. Per la Marino quindi non è possibile continuare a fare finta di nulla mentre allo stesso tempo i lavoratori asseriscono che nell'attuale vasca dove si conferiscono giornalmente i rifiuti giorno 23 luglio sarà raggiunto il limite massimo volumetrico di abbancamento dopodiché tutto verrà affermato quindi una situazione al limite conclude il consigliere indipendente ragusano che può ripercuotersi in maniera pesante anche sulle tasche dei cittadini ragusani visto che i rifiuti verranno poi conferiti fuori province con un aggravio di costi pari a circa 300 mila euro mensili. Accorato appello in queste ore del presidente del Consiglio Comunale di Ragusa Giovanni Iacono sull'emergenza rifiuti che investe la regione siciliana. Per Iacono i sindaci devono avere il coraggio di agire autonomamente. L'emergenza rifiuti è in assoluto la colpa più grave di Crocetta lo afferma il presidente del Consiglio Comunale di Ragusa Giovanni Iacono che interviene con preoccupazione sull'emergenza rifiuti che investe da tempo la Sicilia. I sindaci, e spero con lanci in testa afferma Iacono, devono avere il coraggio di agire in autonomia e mandare al diavolo tutte le società create dalla regione per accumulare debiti, mantenere discariche e clientele di ogni tipo e poi non avere ricchezza dai rifiuti. La riforma è renata come tutte le altre e prosegue il presente al Consiglio Comunale a partire dai liberi consorsi e le nuove società che dovevano sostituire gli ato dal 2010 di fatto non sono operative. Le discariche, poi tolte quelle chiuse e sequestrate sono rimaste nuove in tutta la Sicilia quindi con una situazione al collasse pur disponendo di soluzioni alternative come la riduzione del conferimento e la lavorazione e trasformazione dei rifiuti non è possibile attivare nulla. Quindi, sottolinea Iacono, siamo in un cortocircuito con la regione che crea carrozzone e blocca tutto. Il risultato sulla gestione del ciclo dei rifiuti siamo arenati e giunti alla catastrofe ma i cittadini non possono attendere oltre. Infine il presente al Consiglio Comunale rammenta che dopo tante promesse si attende ancora la proroga per il conferimento e l'autorizzazione all'innalzamento di Cava dei Modicani. Riprendiamo parlando di Medexpo ultimi due giorni infatti per la rassegna fieristica che da oggi si arricchisce anche della fiera di San Giovanni ancora un successo intanto per l'appuntamento con i comici ieri sera è stata la volta infatti di Carlo Caneba mentre giovedì sul palco sono saliti Salvo La Rosa e Litterio. Ancora una serata all'insegna del successo per la Medexpo di Vittoria come ogni pomeriggio tantissime le persone che hanno affollato i padiglioni alla ricerca delle ultime novità sul mercato e dell'acquisto conveniente. Nella serata di giovedì poi il numero è cresciuto a dismisura grazie ai fan del giornalista e presentatore Salvo La Rosa e dell'attore comico Enrico Guarneri nei panni del signor Litterio. Il pomeriggio è iniziato con il convegno sul tema come cambia il mercato del lavoro dopo gli interventi del Jobs Act a cura del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa. L'appuntamento si è svolto nella sala convegni della Fiere Maia. In queste sere poi sul palco delle Maia Roberto Ciaculli ha presentato l'esibizione di alcune scuole di ballo del territorio. Infine spazi allo spettacolo di Cabaret di Salvo La Rosa e Litterio come sempre accolti con affetto dai vittoriesi e dai tantissimi visitatori porvenienti anche da fuori provincia. Ieri sera invece è stata la volta dello spettacolo di Carlo Caneva anche questo molto gradito al pubblico. Quello che più ci interessa ha detto il presidente Salvatore Tolomeo è la soddisfazione delle oltre 160 aziende che hanno aderito a questa edizione e siamo certi di aver centrato l'obiettivo. Molti di loro infatti mi hanno avvicinato per manifestare il loro apprezzamento. È un periodo difficile per l'economia globale ma abbiamo fatto di tutto per confermare questo appuntamento fieristico e i numeri ci stanno dando ragione. Oggi e domani invece spazio alla tradizionale fiera di San Giovanni. Su sollecitazioni di alcuni cittadini l'esperto del sindaco Persco Gitti Marco Dezzi ha dato l'input per modificare la fontana al centro di piazza Sorelle Arduino. Si è trattato di porre rimedi a ciò che da molti era considerato un pericolo per i bambini visto che la fontana viene utilizzata per giocarci al suo interno. Da qui la decisione appunto di trasformarla in un'aiuola che adesso arricchisce la piazza di un nuovo elemento di arredo urbano. Domani è la giornata clou dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista patrono di Vittoria una ricorrenza che per i vittoriesi segna anche l'inizio della stagione estiva. Domani la città di Vittoria si veste con l'abito della festa per onorare come si deve il santo patrono e protettore San Giovanni Battista. Da giorni si respira in città il clima delle grandi occasioni con numerose funzioni coristiche a scandire giorni di avvicinamento col montaggio degli archi luminosi nelle principali arterie cittadine e con alcune iniziative collaterali che riportano le radici popolari della festa come la sfilata del carretto siciliano perché se la ricorrenza del santo patrono a Vittoria richiama tanti fedeli e devoti anche questa iniziativa legata al folklore siciliano richiama tante appassionate del genere. E sono intanto ore di vigilia che procedono alla festa e che da secoli viene tramandata la prima domenica di luglio. La basilica in quest'ora un ve viene di fedeli e devoti anche di semplici cittadini che spesso chiedono un'intercessione una grazia al santo mentre nelle vicinanze stazionano i venditori di palloncine e vari gadget e i bar della zona in questi giorni hanno sicuramente fatto buoni affari. Come sempre in queste occasioni sacro e profano si sfiorano e domani chi non andrà al mare non perderà sicuramente l'occasione per avvicinare in piazza ricca. L'attesa è come sempre per la processione che avrà inizio nel tardo pomeriggio. Quindi il rientro in chiesa tra le acclamazioni festose dei numerosi devoti presenti e il tradizionale sparo dei fuochi pirotecnici a chiudere i festeggiamenti 2015 del patrono di Vittoria. E a proposito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista vi ricordo che domani a partire dalle ore 18 seguiremo in diretta l'evento. Trasmetteremo anche la Santa Messa in diretta e porteremo nelle vostre case l'uscita del simulacro. Tutto questo ricordiamo a partire dalle ore 18. Lo sport adesso basket femminile Rebecca Branson è una giocatrice della Passalacqua. Adesso Molino può forse stare più tranquillo con l'ala pivot che sarà un tassello fondamentale in seno al roster Ibleo. Rebecca Branson è a pieno titolo una giocatrice della Passalacqua a spedizioni. Ieri l'annuncio del passaggio in bianco-verde dell'ala PV americana 34 anni è strapotere fisico da abbagliare alla vista soprattutto agli avversari. Per Molino che non vedeva mai la fine di questa trattativa arriva quindi tanta sostanza e tanti rimbalzi sotto canestro a favore. La Nero arrivata in casa Passalacqua ha vinto due titoli WNA giocati in Euroleague con il club più importante e prestigioso di Europa. Per lei ha anche un'esperienza italiana con Taranto dove ha vinto due scudetti in tre anni. Lei si è detta felice ed entusiasta di venire a Raguse e non vede l'ora di iniziare la nuova esperienza con nuove compagne di squadra e nuovi amici. Naturalmente si aspetta una stagione ricca di successi oltre a dover maturare un'eccellente esperienza. La società Iblei intanto è tornata a ricordare l'inizio del raduno precampionato. Si comincia come è nota a lavorare al Palaminardi a partire da lunedì 24 agosto. In programma anche un amichevole con la Verga Palermo formazione neopromossina 2 e poi ci sarà un triangolare con Orviete e Battipaglia nei giorni 18, 19 e 20 settembre. E' il momento di rivedere i fatti in primo piano. La notizia dell'arresto di un dirigente di banca e di un imprenditore coinvolti in un giro di isura ed estorsione ha svegliato oggi vittoriesi fra incredulità e sconcerto. Sotto inchiesta un'organizzazione che per gli inquirenti aveva ramificazioni da Gela a Ragusa intanto sono stati diffusi i nomi degli arrestati si tratta di Daniele Francione 55 anni e Marco Falcone 27 anni entrambi incensurati. Arrestati dalla polizia due uomini padre e figli accusati di rapina in abitazione i due sono accusati anche di aver realizzato una serie di rapine a Comiso, Modica e Scicli. L'indagine della polizia di Stato è stata anche supportata dalle intercettazioni ambientali che hanno registrato dialoghi al limite dell'assurdo fa padre e figlio che progettavano i colpi valutavano i problemi e si vantavano di quanto fatto. Salvatore Mangione è pregiudicato di 25 anni e è stato arrestato dai carabinieri di Vittoria l'uomo latitante da tre anni è accusato di far parte di un'associazione a delinquere. Obiettivo dell'organizzazione è la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti Mangione era sfuggito alla cattura tre anni fa e solo ora si è rifatto vivo a Vittoria qui è stato notato dai carabinieri che dopo averlo seguito lo hanno arrestato. Nei prossimi giorni una cinquantina di famiglie in provincia di Ragusa rischiano di perdere la casa alla denuncia dei forconi che parlano di allarme case a rischio. A breve quindi sono previsti 50 sfratti e per questi i forconi chiedono un incontro col ministro di Grazia e Giustizia a cui chiedono tra l'altro un tetto limite ai rivassi d'assa fra i casi più noti in provincia quello della famiglia Pacetto di Scigli. Domani è la giornata clou dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista patrono di Vittoria una ricorrenza che per i vittoriesi segna anche l'inizio della stagione estiva. Da giorni infatti sono iniziati i vari riti liturgici e domani grande attesa per la festa esterna l'evento anche quest'anno sarà seguito dalle nostre telecamere che a partire dalle ore 18 seguiranno la messa l'uscita e il rientro del santo. Ed è tutto prima di salutarvi però vi ricordo ancora l'appuntamento a partire dalle ore 18 di domani la diretta per seguire i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista patrono di Vittoria. La nostra informazione quindi torna martedì. Grazie per averci seguito buon fine settimana. a partire di San Giovanni Battista